cobra 89 xlr erano queste basi 40 canali e le prime basi 40 canali sono del 76 77 i 40 canali in america arrivarono nell'autunno del 76 l'ho un po restaurata io peccato che non va questo strumento però tutto il resto funziona ola cambio ola questo è il modulometro e direi che ci siamo perché ola 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 passa al cento per cento sulla ola 3 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 70 ola 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 così è come ci ascoltano gli altri dai ola da 4 a 5 6 modulati come segnale io ho messo il bip la cosa simpatica è questa radio ero a metà del migain ola cambio una due tre prova ola prova radio questa microfono originale ola 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 microfono è questo il suo modulazione molto massiccia per questa radio qua finale da 3 watt e 8 infatti se li ha non di più anche un po meno però ma piace molto dai bella bella davvero mi piace